Noi viviamo una situazione che è paradossale. Da un lato, bisogna fare chiarezza in questo senso, da un lato abbiamo partecipato al bando dell'assessorato a infrastrutture sulla linea dei beni culturali di tipo religioso e il finanziamento c'è, c'è la gara d'appalto, si completa. Verosimilmente, salvo ricorsi che possono comunque starci, dicembre potrebbe essere l'avvio del cantiere per ciò che riguarda il corpo di fabbrica. Ciò che rimane in piedi però è il dramma del colle che scivola, sul quale vi era il percorso individuato dalla regione siciliana da due anni, percorso che è stato messo in discussione sei mesi fa, a seguito di nostre sollecitazioni, che dicevamo perché non vi muovete visto che i soldi li avete e dovete semplicemente operare. Oggi dove siamo arrivati? Siamo arrivati che si rimette in discussione ciò che fu stabilito un anno e mezzo fa e quindi da una parte l'assessorato al territorio ambiente, dall'altra parte la protezione civile che hanno i soldi e per un problema di competenze non operano ciò che era stato previsto dovesse avvenire, cioè la gara d'appalto di livello europeo per la pregettazione di messa in sicurezza del colle. Ora, siccome il 66 sembra che è un tempo molto lontano, mi è accaduto ieri, può tornare ad accadere, e allora chi sta scherzando con delle responsabilità pesanti che ci sono trovi l'occasione con un sussulto anche di dignità in quest'ultima fase della propria esperienza di governo per battere un colpo e finalmente avviare un percorso, visto che storicamente qual è il tema? Mancano le risorse. No, qui i soldi ci sono. Qui ciò che non c'è è l'azione dell'uomo. Dell'uso della politica, sindaco? Ma io sono tra quelli che la fa la politica, quindi non do all'untore. Dico che c'è da un lato chi vedi il comune, vedi la stessa curia. Nel mese di agosto alcuni non vanno in ferie e ringrazio l'Urega per mandare in gara ciò che era necessario per il recupero della cattedrale, ribadisco la fabbrica della cattedrale, e dall'altro invece ci sono da due anni soggetti che giocano al rimpiattino da una parte del campo, della metà campo, all'altra parte della metà campo. Tutto questo, nonostante quanto si sia scritto, fiumi di inchiostro, voi stessi avete seguito tutto ciò che è stato, questo calvario che si lega alla cattedrale, con anche dichiarazioni belle, abbiamo risolto tutto. E oggi siamo qui, oggi siamo qui a vedere che la cattedrale continua a scivolare giù. Crocetta l'ha risposto a una delle due lettere che lei lega? Crocetta ha risposto alla precedente lettera e ha fatto quella riunione, ha convocato una riunione, ha sessorato a bilancio, territorio e ambiente da un lato e protezione civile. Ci siamo lasciati ribadendo il verbale di un anno e mezzo prima. A distanza di un mese e mezzo arriva una nota che smentisce quello che si era stabilito su quel tavolo. Ma il sindaco si arrende? No, non mi arrendo, perché di fronte a questo muro di gomma non ci dobbiamo arrendere. Quando ci sono i muri di gomma, l'unico modo per muoversi per evitare di rimanere vittima dei muri di gomma e prendere i bulldozer e abbattere i muri di gomma. Lei diceva che si è dato già un censimento sulla popolazione di Via Giovanni. Sì, alla luce di quella che fu quella nota che creò le nostre ire e sulla quale si fece il tavolo alla presidenza della regione di qualche mese fa presente anche la nostra Arcidiocesi. Avevamo chiesto l'intervento del prefetto, hanno ritenuto di non invitarlo. Ma tant'è. Alla luce di quella è stata celebrata questa riunione. La protezione civile ha convenuto sulla drammaticità della situazione. Allora abbiamo detto, siccome c'è un tema di sicurezza, venite sui luoghi e cominciate a stabilire delle misure di mitigazione del rischio. Noi per parte nostra, visto che ce lo chiedete, faremo il censimento delle persone che risiedono giù e ve lo comunicheremo. Non è escluso che se continua questa operazione di scivolamento in basso da un momento all'altro potrebbero dirci la volta scorsa ci hanno detto c'è il rischio ma non è così immanente. Da qualche tempo potrebbero riuscire, vedete che il rischio è immanente e a quel punto noi dovremmo chiudere la via Santo Stefano giù ed evacuare le persone che la abita.